Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca sfruttamento nei campi di Siena, Grosseto ed Arezzo pagato 6 euro all'ora lavorando tra le 8 e 10 ore al giorno in condizioni particolarmente faticose, senza dispositivi di sicurezza, formazione e visite mediche con un contratto che parlava di 6 ore al giorno. Questo quanto scoperto dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia che hanno eseguito una misura agli arresti domiciliari e 4 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli indagati sono uomini turchi e marocchini tra i 35 e i 45 anni, titolari di due ditte agricole residenti nel Perugino. Circa 70 invece i cittadini impiegati nelle aziende agricole. E adesso la cronaca giudiziaria è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Arezzo, un sarto aretino che era stato accusato di violenza sessuale su un minore ma adesso il procedimento per lui va avanti ai fini risarcitori. Sarà infatti celebrata presso la seconda sezione della Corte Fiorentina all'udienza. La vicenda risale all'ottobre 2019 e l'uomo è stato assolto ma la giovanissima che si era costituita parte civile assistita dall'Avvocato Alessandro Serafini è di corsa in appello e la sua battaglia potrà proseguire così solamente sul piano civile poiché la Procura non ha impugnato la sentenza di primo grado. Torniamo adesso a parlare dell'antenna di via Sicilia, l'antenna della discordia. I residenti infatti si erano costituiti in accomitato e avevano raccolto oltre 1800 firme e adesso la doccia fredda, l'antenna con ogni probabilità infatti si farà. L'antenna della discordia in via Sicilia con ogni probabilità si farà. Abbiamo fatto di tutto per scongiurare l'ipotesi, ha dichiarato l'assessora comunale Francesca Luccherini, ma niente, non ci siamo riusciti. Un amaro epilogo così per i residenti della zona che hanno costituito un comitato e raccolto oltre 1800 firme per fermare l'installazione della torre che sorgerà a pochi metri di distanza dalle abitazioni. L'amministrazione ha incontrato i rappresentanti della società che si occupa della progettazione e realizzazione. Se in da subito spiega l'assessora abbiamo perseguito con forza ogni strada utile a contemperare gli interessi di una collettività e quelli imprenditoriali, cercando una soluzione il più possibile condivisa e proponendo alla società un'alternativa articolata in due fasi temporali, la prima provvisoria rappresentata dal co-sitting e la seconda e definitiva fase sarebbe stata invece rappresentata dall'individuazione di una postazione compatibile con i progetti della società da inserire nel nuovo piano per la telefonia in corso di stesura e i cui contenuti saranno resi noti in consiglio comunale. Da parte dell'ente locale non è invece percorribile la ricerca e l'acquisto di una nuova area privata diversa da quella individuata. La situazione ad oggi, riassume l'assessora Luccherini, è dunque che la società ha ottenuto da Arpat l'autorizzazione a realizzare un impianto in un determinato sito privato per il quale ha assunto precisi impegni contrattuali, effettuato investimenti e iniziato i lavori, come noto poi bloccati dall'amministrazione. Il via libera dell'Arpat è arrivato in virtù del fatto che l'agenzia è l'unico soggetto che può esprimersi sulla quantità e qualità delle emissioni elettromagnetiche sulla tutela della salute e dando il suo placet ha evidentemente ritenuto che non sussistono rischi per i cittadini. In conclusione, la rinuncia al nuovo impianto non è ritenuta attuabile dalla società che, se andrà avanti nei lavori di installazione come i suoi rappresentanti hanno ribadito, sarà nella totale legittimità di farlo e il Comune non avrà alcuno strumento normativo per bloccare tale operazione. Sul tema interviene anche Francesco Romizzi, capogruppo consigliare di Arezzo 2020. La prima colpa della Comune, scrive in una nota, è stata di non aver informato la popolazione interessata quando è pervenuta la richiesta di una società che individuava in via Sicilia l'installazione di una nuova infrastruttura. E la legge è ragionale a prevedere obblighi di trasparenza, ma la colpa più grande è quella di non aver aggiornato dal 2017 il piano di locazione delle antenne che risulta scaduto da tre anni, conclude Romizzi. E adesso parliamo di elezioni amministrative. Tanti comuni della provincia di Arezzo al voto il prossimo giugno, tra questi anche Castiglion Fiorentino. Ieri ad uscire allo scoperto era stato l'ex sindaco Paolo Brandi ed oggi invece ufficializza la sua candidatura all'attuale primo cittadino Mario Agnelli. Era un annuncio che era atteso da tempo, insomma, il fatto che lei ci provasse a questo punto per la terza vuole. Sì, potrebbe non apparire come una novità assoluta, ma in realtà era anche fuori dalle mie previsioni. Sapete benissimo che si tratta di una modifica alla legge elettorale per i comuni sotto 15.000 abitanti, Castiglion Fiorentino è un comune per l'appunto sotto 15.000 abitanti, quindi con questa possibilità che c'era di un terzo mandato, non solo con la mia disponibilità e con la mia volontà, ma con, direi, una congiunta, direi, indicazione da parte del gruppo consigliare, da parte di Libera Castiglioni, mi viene proposto, mi è stato proposto di ricandidarmi e io ho accettato con un tempo necessario per delle dovute meditazioni, perché è una scelta anche di vita. Io mi candido per provare a vincere per la terza volta, se vinci per la terza volta significa governare il comune non più per 10 ma per 15 anni e quindi era necessario fare tutto un percorso, diciamo, anche interiore di valutazione. Ecco, mi pare che i partiti, insomma, che l'hanno sempre sostenuta fino ad ora, siano belli e compatti, questo non accade in altri comuni, ad esempio, dell'Aretino e già alcuni suoi avversari si sono palesati. Ma per quanto riguarda gli avversari saranno tali nel giorno che presenteranno le liste, come del resto farà Libera Castiglioni, perché attualmente si parla di un avversario, poi possono essere due, tre, non lo so. Non guardo mai io il campo degli avversari, non mi interessa. Invece per quanto riguarda il campo del centro-destra, quindi degli alleati, devo dire che sin dal 2014 il centro-destra ha lasciato ampio spazio di manovra al sottoscritto e alla lista civica Libera Castiglioni. Lo ha fatto nel 2019 e lo dovrà rifare nel 2024, perché questo è un percorso, un progetto civico che riguarda l'area del centro-destra, ma non solo coloro che si schierano nel centro-destra, per cui va bene qualunque tipo di suggerimento o apporto, ma il soggetto, il protagonista, si chiama a Castiglioni Fiorentino Libera Castiglioni. Ecco, lei ovviamente, come ci siamo detti, ha dieci anni alle spalle. Mi permetto di dire, forse mai nella storia di Castiglioni Fiorentino i riflettori sono stati così accesi. Si può fare di meglio? Si può fare di meglio, talvolta i riflettori si accendono anche perché c'è qualcosa che non va bene. Io devo dire che ho saputo un po' convivere anche con questa attenzione, che un po' ci siamo creati, che un po' evidentemente ho voluto. Di sicuro a termini di questi dieci anni lascio il Comune di Castiglioni Fiorentino al nuovo sindaco nella condizione migliore di quella che l'ho trovata io. Elezioni amministrative anche a Cortona, Italia Viva punta su Sara Baldetti. Non ci vediamo rappresentati né da populisti né da sovranistri e come noi tantissimi elettori, quindi vogliamo essere l'alternativa al centro, con una programmazione di centro e di uno sviluppo economico importante per il territorio. E Sara Baldetti, la candidata d'Italia Viva a Cortona, correrà per la poltrona di sindaco nelle prossime amministrative di giugno. Perché è arrivato il momento di mettersi in gioco e le energie delle persone che anche sono sempre state fuori dalla politica devono entrare a piedi pari perché possiamo veramente dare tanto al nostro paese e far sì che veramente tutto diventi perfetto. Sara Baldetti, cortonese doc, 47 anni, viva Pietraia, è un'imprenditrice che si occupa di economia circolare ed agricoltura. Fa parte del direttivo comunale che nei mesi scorsi si è costituito in vista dell'appuntamento elettorale. Abbiamo dei progetti importanti nel sociale per i giovani, per gli anziani, co-housing per quello che riguarda l'assistenza degli anziani. Poi abbiamo dei progetti soprattutto di programmazione economica a breve e lungo termine, dei programmi di rivitalizzazione di Camucia, di Terontola e comunque tutto il territorio ha una sua programmazione e attenzione da parte di Italia Viva. A breve presenterà anche la lista che la sosterrà in questa avventura. Sì, il 21 aprile con l'incontro con Teresa Bellanova dovremmo fare la presentazione dei nostri candidati. Parliamo adesso di economia e vediamo il consuntivo 2023 dei flussi turistici per le province di Arezzo e Siena. Gli arrivi nelle province di Arezzo e Siena crescono rispetto al 2022 rispettivamente del 13,4% e del 9,6%, mentre il risultato medio regionale si attesta a più 12,7%. Sono i dati dell'indagine Istat della rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi turismo pubblicati dalla regione toscana relativi all'anno 2023 che evidenziano il buono stato di salute del settore. Il numero dei turisti in entrambe le province torna al di sopra dei livelli pre-pandemia. Le presenze hanno invece un andamento similare ma leggermente meno dinamico. La crescita si ferma al 9,2% in provincia di Arezzo e a 6,4% in quella di Siena. Nel territorio aretino si è dunque registrato un incremento del 12,4% rispetto al 2019, mentre nella provincia di Siena ci si è attestati al 2,9%. Al contrario, a livello regionale c'è ancora un gap del 5,3% da recuperare. Particolarmente interessanti, sottolinea Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio, sono i dati riferiti alla provenienza dei turisti. I primi tre mercati di riferimento in Italia sono rappresentati dalle regioni Lazio, Lombardia e Toscana. Per quanto riguarda invece la componente straniera è la Germania, in testa seguita dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi. Ad Arezzo un nuovo servizio aggiuntivo per turisti. Tra le vie del centro storico sono infatti tornati i minibus elettrici. Dalle 10 alle 18.30 il minibus è aperto a tutti, è gratuito. Chi vuol provare, e mi auguro che molti aritini lo facciano, chi vuol provare questa sensazione di fare il turista nella propria città, ne avrà facoltà in maniera gratuita. Due giorni di Open Day, poi da sabato 23 marzo, prenderà avvio Arezzo Grand Tour, il nuovo servizio di mobilità turistica della città. Per far conoscere il nuovo percorso che è decisamente diverso rispetto a quello di Natale, perché ovviamente a Natale c'era delle esigenze diverse a livello di traffico, di presenza di persone. I minibus, completamente elettrici, dopo la positiva esperienza natalizia, tornano così tra le vie del centro storico con un nuovo percorso. Molto più ampio, molto più lungo, arricchito questa volta oltre che dalle audio guide, anche dalle video guide che accompagneranno i turisti nella giratina per Arezzo, un percorso che tocca più parte della città fino ad arrivare alla parte cosiddetta più bassa, perché c'era anche questa esigenza e questa esigenza l'abbiamo soddisfatta. 7 chilometri in tutto, 40 minuti di percorso con 30 punti di interesse e 6 stazioni, per offrire un modo alternativo di ammirare il centro storico aretino accompagnati da un audio-videoguida tradotta in 7 lingue. I lavori per la costruzione del Duomo partirono alla fine del 200. Ci appropriamo la Pasqua, quindi pensiamo anche che il periodo sia quello migliore. Peraltro ci sarà una novità, non so se fin da Pasqua o subito dopo, cioè l'autobus che abbiamo usato per Natale, che verrà riproposto oggi, verrà sostituito da un autobus leggermente più grande, più strutturato, ma anche molto meglio a livello estetico, e questo credo che accadrà da dopo Pasqua. È ovvio che non è un autobus da 54 posti con il tetto scoperto, ma è anche altrettanto ovvio che nelle nostre strade un autobus del genere non sarebbe in grado di transitare, però ecco, è un ulteriore arco, un freccio al nostro arco che vogliamo proporre al turista che viene in città. Due nuovi autobus di ultima generazione per un servizio di trasporto pubblico, locale, comodo, sicuro e sostenibile invece sono stati presentati a Subbiano. Si tratta di due nuovi mezzi della flotta TM per il servizio nei territori dei comuni Subbiano e Capolona. rientrano nel percorso di rinnovi mezzo che è una delle priorità dell'azienda che da anni si occupa di mobilità e trasporti. E adesso torniamo in città, al Parco Pertini, dove questa mattina è stata inaugurata una nuova panchina rossa donata al Comune. Una panchina rossa ormai simbolo della lotta alla violenza di genere al Parco Giotto, accanto al monumento dedicato al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, a donarla al Comune l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Credo che oggi sia una giornata, diciamo così, bella anche perché inizia la primavera e soprattutto è una primavera in cui si vogliono ricordare le donne colpite in maniera assurda e che in un certo qual modo devono essere riproposte al centro dell'attenzione. Noi ci siamo occupati molto spesso della violenza economica che è il primo segnale di un percorso che è spesso drammatico. Abbiamo voluto lasciare un segnale, un segnale che rimarrà sempre nella città. Sono forse gesti che sembrano segnali un po' logori, un po' già utilizzati, ma evidentemente ce n'è ancora tanto bisogno. Ad offrire un contributo economico anche la banca di Enghiari Esti a credito cooperativo. Tutti difendiamo i valori tutti i giorni e la donna oggi è un valore da difendere. Scopriamo che pur andando avanti nel mondo ci sono sempre dei casi invece che sembrano riportarci indietro nel passato. Una nuova installazione che vuol sottolineare quanto importante sia il segnale dato alla cittadinanza. Come ufficio delle pari opportunità stiamo lavorando molto anche nelle scuole, quindi presentiamo dei progetti per i giovani ragazzi perché poi saranno loro gli adulti di domani. Quindi progetti di formazione, di informazione, di sensibilizzazione per educarli alla non violenza, alla tolleranza e al rispetto. Una strada o un luogo pubblico di Arezzo è intitolato alla memoria di Andrea Guffanti. La proposta è dell'Istituto Nastro Azzurro che ha inviato la richiesta all'amministrazione comunale per attivare l'iter necessario per rendere indelebile il ricordo di un uomo che ha speso la propria vita al servizio della patria prima come combattente e poi come amministratore pubblico. Tra i meriti di Guffanti, l'avvio della pratica per il conferimento della medaglia d'oro al valore militare della provincia di Arezzo. In Valdarno, a Terra Nuova Bracciolini, invece arriva un nuovo defibrillatore collocato all'esterno della biblioteca comunale Le Fornaci grazie alla generoso lascito della signora Anna Corvino che nel suo testamento ne ha disposto la donazione in favore del comune. Grazie all'installazione di questo nuovo strumento ha dichiarato il sindaco Sergio Chienni anche l'area attorno alla biblioteca comunale avrà un dispositivo salva vita che servirà a soccorrere le persone colpite dal resto cardiaco. E sempre in Valdarno, questa mattina, è stato presentato il centro di urno che garantirà cure intensive agli adolescenti con disagio di comportamento. La palazzina che lo ospiterà è a San Giovanni Valdarno in via Vetri Vecchi numero 34 ed è di proprietà del comune di San Giovanni che lo assegnerà incomodato d'uso gratuito all'Atla Toscana Sud-Est. Il progetto nasce dalla necessità di fare fronte alla domanda crescente tra gli adolescenti del Valdarno di prestazioni e servizi nell'ambito dei bisogni della salute mentale bisogno che si è accentuato a partire dalla pandemia. Ad Arezzo, invece, la CRT amplia la rete territoriale dei suoi servizi. In via 25 aprile è stato infatti inaugurato un nuovo ambulatorio per l'età evolutiva. Potenzia così la serie di attività che la clinica garantisce in Valdarno e adesso si dedica ai più piccoli. A San Sepolcro, invece, ha fatto ritorno la preziosa pala della deposizione di Cristo capolavoro cinquecentesco dopo un importante restauro. La scena è quella della deposizione di Cristo ed è il mistero che andremo a celebrare tra qualche giorno. E allora è un messaggio forte e bello che vogliamo condividere. La deposizione di Cristo del Rosso Fiorentino torna a San Sepolcro dopo sette anni di restauro. È stato un intervento lento e complesso perché le condizioni conservative erano frutto di una stratificazione complicata di interventi nel corso del tempo. La deposizione di San Sepolcro è tra i capolavori di Rosso Fiorentino e fu eseguita proprio a San Sepolcro dall'artista che era appena fuggito dal sacco di Roma nel 1527. L'opera esprime dunque una drammaticità che spinge l'artista in alcuni tratti a ricorrere perfino al grottesco come nella mostruosa figura al lato della scala. È davvero un vertice del manierismo del primo manierismo inteso come scardinamento delle regole attenzione a una pittura anche non naturalistica. Guardate le figure femminili in primo piano di straordinaria sofisticazione ma nello stesso tempo recupera contenuti legati alla devozione ancora medievale dando una profondità a questi contenuti fortissima proprio perché è espressi in un linguaggio in quel momento molto molto moderno. La comunità si è mobilitata per migliorare la pavimentazione della chiesa di San Lorenzo dove la preziosa pala adesso è tornata e l'amministrazione comunale si è invece occupata della nuova illuminazione. Si sono veramente tutti attivati guarda abbiamo trovato la copertura della spesa perché tutte le associazioni sono tante tutti hanno fatto qualche cosa questa è stata la cosa più bella. Ed abbiamo approfittato della presenza del soprintendente Gabriele Nannetti per parlare anche della Madonna del Parto prosegue infatti la dialogo tra Comune e Ministero per la sua collocazione. La Madonna del Parto come sapete è oggetto di approfondimenti di studi sia per quanto riguarda la sua conservazione ma anche per quanto riguarda la collocazione. Al momento siamo in una fase interlocutoria dove il dialogo comunque tra il nostro Ministero e l'amministrazione comunale va avanti diciamo secondo il programma. Si avvicina alla Pasqua e a Montecchio Vesponi come da tradizione torna la processione della Madonna addolorata. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 21 con partenza dalla chiesa di San Biagio. La tradizionale suggestiva iniziativa si snoda per le strade della frazione prevede sette scenografici quadri animati da tanti parrocchiani oltre 50 che rappresentano la passione di Gesù Cristo. E adesso voltiamo pagina ad Arezzo prosegue infatti la stagione di prosa del teatro Petrarca sabato 23 marzo alle 21 il due artistico leone d'oro alla carriera formato da Antonio Rezza e Flavia Massarella sarà in scena con fratto X stralunata rappresentazione dell'uomo alle prese con l'assurdo dell'esistenza attraverso la comicità spietata e irresistibile che è marchio di fabbrica della coppia. Lo spettacolo in replica domenica 24 marzo alle 17 Un evento speciale invece all'Eden con la proiezione del film d'esordio alla regia di Margherita Bui volare alla presenza della stessa regista l'appuntamento è per martedì 26 marzo l'attrice romana tra le migliori attrici italiane sarà ospite del cinema per introdurre all'eventi la proiezione del film di cui per l'appunto firma la regia oltre a far parte del cast l'evento è a cura di officine della cultura domani sera invece riparte la rassegna di teatro spontaneo al Cassa Fiorentina il primo appuntamento con lo spettacolo attenzione maneggiare con cura di Barbara Peruzzi la rassegna proseguirà poi con altri cinque appuntamenti fino al prossimo 17 maggio e adesso passiamo alla pagina dello sport al calcio femminile l'Arezzo si prepara per la sfida contro il Verona match che si giocherà a porte chiuse a Cortona l'Arezzo calcio femminile affronterà il Verona una squadra che è un pochino più su di mezza classifica 11 punti la dividono dall'Arezzo calcio ma tutto si può affrontare si il Verona è una grandissima squadra ha tante individualità tecniche e soprattutto ha un bel gioco comunque noi cercheremo di portare a casa sempre i tre punti una cosa importante quali sono le caratteristiche essenziali di questa squadra che tu magari hai già pensato come affrontarla le caratteristiche essenziali abbiamo già visto diciamo due partite e possono esserci solamente il gioco cioè loro giocano giocano in continuazione e soprattutto hanno tre belli attaccanti soprattutto Rognoni che è un attaccante veloce e tecnica in quei casi lì si può pensare anche a raddoppiare ma ora vedremo come gestire la partita e in questi giorni tanto la stiamo preparando e poi vedremo domenica come affrontarle hai già in mente quella che sarà la probabile formazione? no ancora no perché comunque fino a venerdì come ho sempre detto alle ragazze devono cercare di dare tutto e si conquistano la maglia fino al giorno prima della gara quindi ancora non ho deciso e vedremo venerdì sera o sabato sera si continua con qualche innesto della primavera? sì sicuramente continueremo anche con loro perché oltre insomma a Susanna Lunghi che ha già fatto il suo esordio stiamo già portando altre ragazze perché comunque abbiamo una rosa ristretta ed è giusto che la rosa si ampli bambine e bambini in vasca con il corso primaverile della chimera nuoto tra giovedì 4 aprile e giovedì 18 aprile il palazzetto del nuoto di Arezzo ospiterà infatti un ciclo di 5 lezioni gratuite rivolte alla fascia d'età tra i 4 e i 6 anni dove sarà possibile apprendere le basi tecniche della disciplina ed acquisire sicurezza nelle acque questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie